Non ci avevamo qua. Certo che eravamo proprio piccoli, eh. Eccolo lì, il fratello più prepotente del mondo, guarda che roba. Boom, ecco la sverla, ecco. Tanto per cambiare, anche perché non passa fotogramma che non prendo una sverla, permettete che mi dà fastidio. Io voglio andare a vedere, Livia. Ma come quando? Subito! Mi siete portati a San Cappello perché stanotte invece manda a dormire a casa. A senza tetto! Io forse lo so dove è papà. Come lo sai? Ma che è un incendio? Ma quella è casa nostra. Tu sei un pazzo criminale, capito? Mi fai schifo, mi fai. A falso! Radio station. Guarda come sei vestito, sei mascherato da pagliaccio! Radiation! Papà! Nostro padre è un grande egoista. Livia, stiamo parlando di nostro padre. Se t'ha sentissi che cinque minuti te ballà senza... capito? Coeri. Un giorno te sei sbagliato con ste manine, ticiri, 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 e hai svoltato. Mentre invece a me tutte le sere mi tocca più a palla, più energia, più a palla, ragazzi! Sei sempre stato il mio preferito. Nostra sorella, una gran bugiarda. È vero che sei andata a letto la prima volta a 13 anni. Tiago! Non era Michael Jackson, era Prince, è fatta una pena di postura. Prince, mi hai detto che era Michael Jackson, che dice che si era schiarito la faccia! Prince, mi che sei schiarito!